Ciao ragazzi, avete già notato quante persone sono ormai diventate esperte di cani in generale, ma di cani da guardia. Quando ho iniziato io, più o meno più di vent'anni fa, più che meno, e poi ho fondato la federazione, sentivo l'esigenza di fare un po' di chiarezza su quello che era questo animale, che era stato dimenticato da tutti. Si parlava tanto di tutte le razze, di tutti i vari concorsi espositivi, dei cani da lavoro, da difesa, da traino, da caccia, tutto, tranne che cani da guardia. Le persone si ricordavano dei cani da guardia solo quando accadeva un incidente. E allora dicevano cani da guardia a Zanna bambino, cani da guardia fa questo, perché laggiù dove il cane diventava in qualche modo insofferente al proprietario, combinava qualcosa, era un cane da guardia. Io che a un certo punto avevo avuto questa reale necessità per poter procedere questa proprietà dove mi ero trasferito, avevo iniziato a interessarmi di questi cani da guardia, che li ritenevo allora e li ritengo oggi, assolutamente utile a chi vive in una casa singola con giardino, se si vuole vivere in serenità quello che è stato l'investimento, perché oggi andare a costruirsi una casa o acquistare una casa singola con giardino, magari un posto un po' isolato dove puoi stare tranquillo, eccetera, vabbè poi hai questo onere che molte persone poi ci vogliono fare visita, ma non gli amici, i visitatori indesiderati. E mi ero reso conto praticamente che non bastavano i cani da difesa, ci andavano proprio cani che si prendessero a cuore il territorio, che facessero del territorio dove i proprietari avevano costruito la casa, dovevano trasferito la famiglia, il loro territorio e l'avessero potuto difendere in tutti i modi così come avessero potuto difendere fino all'ultimo i familiari poiché erano quelli che avevano adottato il cane ed erano i datori di cibo. Già mettere insieme queste nozioni che adesso vi sto trasferendo, per me che non se ne parlava assolutamente, fu una cosa abbastanza difficile, girai il mondo, come tutti sapete, per poter costruire quella che era una logica che stesse in piedi sui cani da guardia, perché si sentiva a dire di tutto. Cani che li davano in dotazione, buoni con tutti ma da guardia, si leggeva. Tutte le enciclopedie c'era scritto cani da guardia, tutti facevano la guardia, i cani erano in occhi con tutti ma in caso di bisogno avrebbero fatto la guardia perché avrebbero difeso il proprietario. Quindi c'era questa grande confusione e di lavoro ne è stato fatto tanto, sono stati creati dei professionisti che oggi sanno perfettamente che cos'è un cane da guardia, come va cresciuto, come va scelto, prima ancora, poi come va gestito, come non va rovinato in quelli che sono i suoi istinti primari, eccetera, eccetera. Invece oggi assistiamo ad un altro fenomeno che è quello che sono diventati tutti esperti di cani ma di cani da guardia. Chiunque guardi qualche video su YouTube, c'è addirittura uno su YouTube che è esperto di tutti i cani, di tutte le razze, lui sa tutto e ha anche gente che lo seguono. È difficile saper tutto senza possedere almeno centinaia o migliaia di cani da guardia andare ad analizzare delle situazioni, però ormai funziona così. Ma peggio ancora chiunque a un bel momento si sia trovato con una coppia di cani da guardia, ha fatto una cucciolata e automaticamente è diventato un esperto, dispensa consigli a tutti. Ed è veramente incredibile come proprio adesso che sono diventati tutti esperti di cani da guardia e poi quando ci sono dei problemi le persone che sono inguaiate si rivolgono sempre agli stessi. Prima quando c'è stato da adottare i cani era tutto facile, infatti loro hanno scelto la strada più facile, chi non gli diceva di studiare, chi non gli chiedeva magari cifre importanti per cani di un certo tipo, chi glieli regalava addirittura, chi gli diceva che bastava volerli bene come dei figli e tutto sarebbe andato perfettamente. E mai come adesso che sono tutti esperti e ci sono i cani di pieni, perché le persone che si sono avvicinati al cane da guardia come fosse un cane da compagnia e l'hanno preso tanto così perché non sapevano cosa fare, tanti hanno messo un cane o due da guardia in mezzo già agli altri sei o sette che erano nel cortile e poi ovviamente non hanno più saputo che pesci pigliare perché poi è una cosa veramente incredibile, come se certe tipologie di cani magari non vengono a fare la guardia contro gli strani, ma iniziano a fare la guardia contro gli stessi che li hanno cresciuti perché sono proprio i loro proprietari che considerano i più grandi pericoli e le più grandi minacce proprio per la loro sopravvivenza. Quindi quello che dico sempre io è che nel momento in cui uno decide di andare in una proprietà privata, singola, con un giardino, io ne sono la prova contro il passo meraviglioso perché godersi la natura è una cosa incredibile, solo oggi è passato uno stormo di uccelli, faceva un rumore che io non capivo cos'era, guardavo in cielo se c'erano aerei e poi ho visto questi che probabilmente si preparano alla migrazione e quindi godiamo di spettacoli incredibili. Però bisogna sempre tenere gli occhi ben aperti perché queste abitazioni fanno molto gola e ti trovi persone ormai di tutti i colori, di tutte le nie eccetera all'interno del giardino che fanno delle pretese pazzesche però sembra quasi che siano protetti e tutelati dalla legge e loro fanno della nostra proprietà cosa vogliono e quindi fate un po' attenzione a tutti questi grandi esperti ma non tanto nel momento in cui andate ad acquistare un cucciolo perché il cucciolo lo potete acquistare da chi volete per poi tutti i problemi che vi porterete a casa perché poi stiamo riempendo i canili di cani che se fossero stati cresciuti in modo diverso da mani esperti e farebbero felici delle famiglie e invece sono animali in balia del destino perché nessuno non li vuole più e loro devono pagare un prezzo di errori che hanno fatti altri. Inizialmente quelli che non hanno saputo distinguere un professionista da un improvvisato e gli stessi insomma che in tutti i momenti si improvvisano e si spacciano come esperti che sui social è la cosa più facile del mondo. Bene, vi ringrazio anche oggi per avermi seguito.